Giuseppina Violante La nouvelle fait déjà les gros titres. Lancaster est de retour sur la riviera. Les vagues, le soleil et les parasols dansent de joie. L'été est un état d'esprit. Hydratez-vous, dormez, riez, nagez et recommencez. Vous êtes lumineuse. Cette année, prenez des couleurs en protégeant votre peau et l'océan. Avec Lancaster, déclarez votre amour à la mer. Allora, mi sembra che sia Lancaster, o Lancaster, come l'ha detto qua, è una delle tante marche, forse una di quelle di punta di Coty. Avendone tante ne ho scelta una. Mi sembrava anche in tema estivo. Giustamente. E che preparasse al mood vacanziero. Bene. Allora, Coty, come tutti sanno, viene da una fusione. È un gruppo che rispetto ai suoi concorrenti ha avuto tante trasformazioni in questi ultimi anni. E, non ultima, l'arrivo di un nuovo CEO che è di qualche mese fa. Di un anno fa. Un anno fa. Per cui, siccome è una figura abbastanza particolare, magari potremmo partire da lì. Che cambiamenti questo nuovo CEO ha portato o sta portando nel gruppo? Ma oggi si parlava tanto di business familiari tradizionali. Coty nasce, in effetti, da un imprenditore e poi ha molte evoluzioni. Oggi noi siamo nel pieno di una importante evoluzione portata anche dal nostro CEO, Suna B. Che, come dico io, è un po' la Serena Williams del beauty. Quindi è come se fosse venuta a giocare con noi Serena Williams. Quindi, insomma, ci sentiamo forti. Sicuramente Su è una veterana del beauty, che quindi porta un background molto sostanziato nella professione e viene dopo dei CEO che non erano nativi del beauty. Quindi ha portato tutta una visione molto tecnica anche. Lei, tra l'altro, è una persona di scienza, poi prestata al marketing successivamente. Quindi ha dato un forte impulso di nuovo alla ricerca tecnologica, che come nel caso di Lancaster, che abbiamo citato, e nelle radici dell'azienda. Ma, secondo me, sta anche portando una grossa trasformazione culturale. Lei è veramente un manager del momento, perché oggi si è parlato un po' delle cose che la pandemia ha trasformato. Sicuramente la pandemia, nelle organizzazioni come la nostra, ha portato in evidenza l'importanza del people, delle persone che lavorano con te. E su questo Su, devo dire, sta portando un driver molto forte nella direzione della diversity e dell'inclusion e del valore che questo può portare nella creazione dei prodotti e nella proposta dei prodotti. E quindi sicuramente lei ha una grande attenzione in questo senso e, per esempio, sta progressivamente trasformando l'organizzazione, tanto che noi siamo passati ad avere un board, un senior leadership team a maggioranza femminile. e questo sicuramente è qualcosa che, in qualche modo, come dire, impregna l'azione dell'azienda. Per esempio, già noi da mesi, è una piccola cosa, ma è molto importante per dire come è sentito il tema della diversity e dell'inclusion, noi nella firma aziendale abbiamo la possibilità di inserire il preferred pronouns. Adesso è una cosa che va di moda, si vede anche su LinkedIn. Ecco, noi da tempo possiamo inserire il preferred pronouns, quindi i, sci e anche dei, per cui abbiamo quest'idea anche molto inclusiva. E questo portar valore di diversità all'interno del people, dell'azienda, ci permette di capire anche i consumatori. Quindi è anche strumentale al fatto di essere rappresentativi del mondo dei consumatori. Quindi è importante rispecchiare, in qualche modo, anche l'evoluzione del consumo e dei comportamenti. E ovviamente è dentro da un anno, ma questo approccio sta, tu hai, anche con degli esempi, sta impattando in qualche modo sul vostro business, sul vostro, anche in modo di gestire il business. Che effetti stai vedendo di questo? Beh, allora sicuramente l'azione è triplicata, per cui direi che la borsa l'ha presa molto bene. Quindi questo mi sembra che sia già un segno molto importante. E chiaramente sia nella ricerca e nello sviluppo, che sono molto, molto importanti nel mondo della cosmesi, c'è tutto un mondo di lavoro, di ricerca e di sviluppo sui consumatori che stiamo portando avanti in questo senso, della diversity e dell'inclusion, e sicuramente anche in tutto il mondo dei testimonial che vengono scelti. C'è questa cosa che i consumatori ci stanno dicendo che il beauty e in generale l'industria ha bisogno di autenticità, e questa autenticità è anche nelle storie dei talent che ci rappresentano. E questo secondo me è un segno tangibile di come stiamo evolvendo il nostro modo di presentarci sul mercato. Come dicevi, l'azienda è in grande evoluzione, poi c'è stata l'uscita di Vella tempo fa. Oggi, qual è il perimetro della nuova Cotì sia a livello di Europa, che è l'area EMEA che segui tu, che è a livello complessivo? Allora, noi, come giustamente citavi, come è stato citato all'inizio della presentazione, abbiamo fatto lo spin-off di Vella e ci siamo concentrati sui due core business storici di Cotì, che sono il mondo luxury, che è centrato nelle fragranze, e il mondo consumer beauty, che è centrato nel cosmetics, nel make-up. Questo è un punto di forza, ma se vuoi anche di debolezza, perché noi abbiamo un portafoglio, in un senso e nell'altro, molto sbilanciato su una categoria. Quindi il driver fondamentale dei prossimi dieci anni, credo, sia quello di ribilanciare le categorie all'interno del nostro portafoglio e ribilanciare anche le geografie. Per fortuna, io lavoro sull'EMEA, e l'EMEA oggi, nella mia divisione, e in generale anche un po' nell'azienda, è la prima region. È chiaro che, rispetto ad anche altri concorrenti sui mercati asiatici, per esempio, noi siamo ancora dei challenger, e quindi quello sarà uno dei focus su cui ci... Però di nuovo, dobbiamo essere meaningful per i consumatori dove li andiamo a trovare. Fish word, fish is art, ma con gli strumenti giusti per quei consumatori, quindi i prodotti, la comunicazione adattata ai consumatori. Parlavi prima di ribilanciamento delle categorie, e quindi vuol dire che l'EMEA di cui avete la licenza per le fragranze allargherete l'offerta anche a make-up e skin care. Non ti posso svelare tutti i segreti perché qua sono un sacco di concorrenti, per cui devo anche fare attenzione, scherzo. Sicuramente noi abbiamo il privilegio di lavorare con dei partner fashion... Senza citare parte. Con dei partner fashion molto forti, anche italiani molto forti, o che comunque... Qualche nome possiamo farlo. Gucci, Barberi, che è inglese, ma è italianissima perché il direttore creativo, come sapete, è Riccardo Tisci, che quindi è molto italiano. Questi brand che hanno in sé la forza del mega brand, cioè quella capacità di essere contestualmente, di avere un'offerta accessibile ma anche una grandissima aspirazione, quindi hanno un'equity di brand fortissima, questi brand hanno anche la capacità e le potenzialità per estendersi su categorie che vanno oltre la fragranza, che è quella, se vuoi, originaria con cui si parte. Per cui adesso abbiamo iniziato già da un paio d'anni l'espansione di Gucci Makeup, che è molto, molto selettiva e che, per esempio, in Asia la gente impazzisce per un rossetto di Gucci, quindi sicuramente questa legittimità c'è e quindi ci sono progetti di espansione. Poi oggi un altro tema è stato toccato lateralmente, ma è l'idea del prodotto di make up che è anche un po' skin, si chiama la skinification del make up, che è un po' brutto da dire, ma per cui c'è questa dimensione tecnologica importante e che arricchisce il prodotto, quindi non è solo il colore in sé, ma è anche l'effetto che mi dà sulla pelle che è molto importante per i consumatori e questo secondo me è un trend che il mercato recepirà molto bene, soprattutto sui mercati asiatici, in cui la dimensione... L'Asia, l'idea, come dicevi, anche di ribilanciare le region è legata anche al fatto che con l'estensione Città-Viguchi avrete delle leve di vendita più ampie, più forti. E soprattutto i brand sono particolarmente significativi in queste aree. geografie, sì. Anche il Middle East, per esempio, è un posto dove l'italianità, anche la francesità, ma l'italianità è fortissima. Anche nel Middle East impazziscono per Gucci, per Roberto Cavalli anche. Che è anche un altro vostro brand. Un altro brand, sì. Parlavamo anche di e-commerce, visto che è stato citato tante volte in questi interventi precedenti. Voi avete un vostro e-commerce o voi lavorate solo per il tramite dell'e-commerce? Noi, allora, abbiamo l'e-commerce solo sui brand di Kim e Kylie, che sono le nostre due influencer e personality-led brand, che quindi hanno D2C, Kim Kardashian e Kylie Jenner. In famiglia, proprio. Sì, ebbè, noi abbiamo un legame speciale con tutto il clan Jenner Kardashian. E poi, invece, in tutto il mondo ci serviamo delle partnership con i retailer e quindi tutto l'e-commerce che facciamo lo facciamo tramite i nostri partner. E voi vedete una crescita su questo? Allora, adesso, guardando la geografia che io, insomma, su cui lavoro, più vai a nord e è penetrato l'e-commerce, più vai a sud e meno è penetrato l'e-commerce. Quindi hai dei tassi di e-commerce dell'Inghilterra che si aggirano quasi al 50% di acquisti, sul beauty, e tu arrivi all'Italia. L'Italia è il paese che ha la penetrazione più bassa. C'è in PD, in sala, quindi mi può confermare o sconfermare, ma credo confermare. L'Italia è il paese in cui l'e-commerce, pur raddoppiando, l'hai citato tu all'inizio, pur raddoppiando, ha ancora una penetrazione bassa. Questa, per mille ragioni, forse anche il digital divide, se vuoi, che in Italia è ancora forte, ma credo, ed è stato detto oggi, che comunque i consumatori, in particolare i latinos, quindi noi, gli spagnoli, ma in generale, perché io ho letto da poco una ricerca che parlava proprio di questo, del bisogno del rapporto fisico con il prodotto della visita al punto di vendita, che è un rituale, no? Non è funzionale. Se vai a nord, mi serve una cosa, la vado a comprare. Dove la compro più facilmente? Sull'e-commerce, tac, tac. Invece c'è questa parte di uno di relazione, veniva citato prima da Pinali, del commercio di... Esatto, sei d'accordo con Pinali? Assolutamente, sul commercio di prossimità. L'Italia è, c'è stato anche nel food, se vuoi, un ritorno al commercio di prossimità, per cui io voglio il mio prodotto, lo vado a cercare nella prossimità. E chiaramente questo induce, induce l'industria però a ripensare l'esperienza fisica, l'industria, lato nostro e il lato retailer, chiaramente, perché ci sono delle cose che sono evolute. Io leggevo da un poco tempo fa una ricerca sul mondo asiatico, loro sono molto avanti nel contactless, della contactless experience, quindi non c'è la cassa, ci sono tutta una serie di cose che sono digitalizzate, automatizzate. Io non penso che noi arriveremo a questi estremi, ma sicuramente c'è un tema di trasformazione, se vuoi, del rapporto nel punto vendita, dove però l'interazione umana, io credo che sia ancora assolutamente significativa. Parlavamo dei mercati latini, quindi ti voglio chiedere un po' una tua visione invece sul mercato italiano, sui cambiamenti che tu stai osservando dal vostro punto di vista e anche dal tuo, che appunto hai una visione multicountry, quindi puoi fare anche dei confronti. L'Italia è un paese che, come size, rispetto ad altri, come dimensione, rispetto ad altri paesi, anche europei, è più piccolo, ma ha un ruolo fondamentale di trend setting e soprattutto poi per i tipi di brand che sono presenti e che sono molto italiani, Gucci, di cui abbiamo parlato, Bottegaveri, da noi ne abbiamo tanti anche italiani, per cui credo che comunque l'Italia possa ancora servire da laboratorio di sperimentazione sia lato prodotto, creatività, perché poi nel mondo del beauty c'è questa dimensione scientifica che io credo che sia fondamentale, ma poi c'è tutto un lato di immagine, creatività, comunicazione e su questo l'Italia ha ancora una voce importante da esprimere. Quindi credo che l'Italia può mantenere questo suo ruolo di laboratorio di sviluppo. Chiaro. Voi fate molto in licenza, però Lancaster è un vostro brand. Lo trattate, cioè nel futuro sarà un marchio su cui punterete di più visto che è un vostro asset, quindi che progetti avete su questo? Allora, nella visione di Su chiaramente l'obiettivo è quello di creare dei global brands. Noi abbiamo oggi dei regional brands nel senso di macro region, abbiamo marche come Ugo Boss che è una potenza in tutta l'Emea. Chiaramente il nostro obiettivo sarà quello di sviluppare questi marchi su una dimensione globale e trovare all'interno del nostro portafoglio quei marchi che ci possono permettere di conquistare delle nuove aree e delle nuove region. Lancaster è uno di questi. Lancaster, che è un brand molto europeo, ma è un brand che ha un'equity fortissima in Cina. Quindi noi, per esempio, alcuni progetti di sviluppo, Lancaster è conosciuto per il Sanker, ma ha una dimensione tecnologica sullo skincare importante. Molti progetti di sviluppo, per esempio, su Lancaster li stiamo portando in avanti in Cina. Quindi chiaramente l'obiettivo del portafoglio di cui io mi occupo è quello di sviluppare i marchi e le franchise su una dimensione che ci permetta di essere significativi sulle varie geografie. E un'ultima domanda. A livello di gruppo, per quello che si può comunicare, l'azienda punterà ancora di più sui marchi di licenza o nel futuro vedete un aumento del peso dei marchi tipo Lancaster che invece sono asset aziendali? Allora, come sai, come abbiamo visto prima, noi stiamo lavorando anche sperimentando nuovi modelli di business. ne parlavamo qualche giorno fa, per esempio, dei personality-led brands come Kylie e Kim. Questi personality-led brands sono fondamentali perché io trovo che intercettino oggi i trend maggiori del comportamento dei consumatori di cui noi dobbiamo assolutamente a cui dobbiamo assolutamente far attenzione. Che cosa hanno di particolare? Nascono intorno a una comunità. Questa comunità è una comunità che condivide dei valori, dei credo, delle specificità e sono animate da queste personality che in qualche modo incarnano questi valori. Ora, questo legame molto forte che poi è messo a terra in una linea di prodotti e in un modo di condivisione quindi diventa quasi una militanza è fondamentale perché ci permette di intercettare i gusti dei consumatori e questo trend che è alimentato tantissimo dai social network credo che informerà un po' tutta l'industria del beauty dei prossimi decenni. E quindi tutte le multinazionali, noi per primi, dovremmo fare i conti con questo fenomeno e capire i consumatori anche attraverso, si parlava prima di social listening, di big data, ecco, i big data ci servono a quello, ci servono a capire. Prima facevamo solo le ricerche di mercato più o meno capivamo se andava il rosso o andava il giallo. Adesso abbiamo bisogno di capire qual è veramente il valore che sottostà a una determinata scelta del consumatore. Si parlava appunto quando discutevamo di questa intervista dei trend che in qualche modo influenzeranno molto fortemente l'industria la sustainability è stata ampiamente sviscerata e noi anche abbiamo il nostro ruolo nella sustainability con il progetto Lanzatec per il riciclo, quindi un progetto di Circular Economy sul riciclo delle emissioni di CO2 che diventano etanolo per i profumi. Quindi c'è questo tema della sostenibilità perché noi non possiamo più consumare risorse, noi dobbiamo riciclare le risorse, ma ce ne sono altri due che sono quello dell'inclusività e quello dell'accessibilità che sono due trend fondamentali che in qualche modo le personality led brand incarnano bene. Nel caso dell'accessibilità che è stata associata al fatto di costare poco quindi essere accessibile, in realtà l'accessibilità è un concetto molto più ampio. Parlavamo prima di commercio di prossimità. Tu immaginati di essere una ragazza che vive in un posto sperduto in Cina o a Berceto o sull'Appennino sull'Appennino e desiderare un rossetto di Gucci. L'accessibilità è il fatto che il bene o il servizio si renda accessibile ad un consumatore e in questo senso l'e-commerce ha un ruolo fondamentale ed è per questo che lo dobbiamo guardare non tanto nella dimensione di repurchase fatto con un prezzo inferiore, no, il ruolo nell'esperienza d'acquisto dell'e-commerce. L'inclusività che è un altro un altro tema essenziale che non si limita al fatto di dire gli skin tones, no, abbiamo dallo scurissimo al chiarissimo così le persone afro o le persone asiatiche possono avere un prodotto. L'inclusività è pensare, creare prodotti che possono essere pertinenti per gruppi o per consumatori che hanno necessità, credenze, specificità e che quindi noi le includiamo nella nostra idea di bellezza che è sempre di più un'idea di bellezza non univoca, non stereotipata, ma che, come dire, fa emergere la bellezza delle differenze e questo credo che sia un po' la vera sfida che tutti noi abbiamo, dobbiamo portare avanti e su cui i consumatori ci stanno stimolando. Perfetto. Grazie del tuo intervento e complimenti.